e si è ricomposto in maniera eccellente Baptistao controlla, rientra sul mancino Leo Baptistao, l'Espagnolo è in vantaggio 1-0 e poi è rientrato e poi ha chiuso benissimo qui vediamo che converge al centro e poi di sinistro non ha lasciato scampo Buffon quindi grande gol di questo attaccante brasiliano appena arrivato dal Villareal e quindi grande biglietto da visita per lui che palla di Bonucci per Lichsteiner il controllo poi di Bala che lascia sfilare per mandare via un uomo ancora di Bala a sinistra per Asamoah in mezzo c'è Mandzukic, Asamoah lo cerca e Mandzukic pareggia la partita giocatori che attaccano benissimo la profondità però lasciamelo dire questo mancino veramente sublime di Di Bala da di lì nascono tutte le illuminazioni di questa squadra io credo che questo è un giocatore che col passare del tempo apprezzeremo sempre di più di piedi buoni ce ne sono di belli proprio all'ultimo per disturbare Gerard Moreno attacca però con una salva Sevilla l'Espagnolo, tocco in mezzo Alessandro non ha benissimo di testa curado, netto e poi il pallone che finisce Lemina di Bala controlla tutto con il sinistro va al giro! va al giro!